Inizia il conto alla rovescia. Fra esattamente 30 giorni, ritorna il mese prossimo, dopo due anni di lunga attesa, la processione triunfale del carro dell'Immacolata Concezione per le vie della città. Arrivano questa mattina da via Falanga, dalla storica piazzetta di Torre del Greco, le prime reazioni e i primi commenti di cittadini e commercianti della zona in vista dell'8 dicembre. È lei che ci deve aiutare, è lei che ci deve far uscire tutti questi problemi che abbiamo oggi, non si capisce più niente. Cosa sarà solamente i pagò per non avere servizi. L'Immacolata a noi è la salvezza della nostra città. Finalmente dopo qualche anno di pandemia riusciremo a vedere questo carro dell'Immacolata. Speriamo che vada tutto bene e che il mondo ritorni a sorridere. C'è stato un vuoto, va. C'è stato un vuoto. Speriamo colmabile. Sono due anni che non vediamo uscire l'Immacolata. Finalmente questo è l'anno giusto e speriamo che con l'Immacolata per Torre ci dia un po' di forza e saluto a tutti. Come festa mi piace, però si deve organizzare un po' meglio. È un evento che mancava da parecchio e spero che riescono a rispettare le restrizioni e andare avanti con la nostra processione, con la nostra madonna. Speriamo che chi stanno esce, così fa contento tutta la popolazione. Sono contento che esce la madonna perché soprattutto è la festa dell'Immacolata, è la festa più bella che abbiamo noi a Torre del Greco e siamo fieri che esce la madonna. Se esce la pandemia significa che non ci sta più e allora andiamo bene noi. Deve uscire perché la madonna per Torre del Greco è una cosa spettacolare. E io ne so qualcosa, in grande uniforme le giornate interi, pressa la madonna. Siamo torresi, si vive solo per l'ammacolata questo paese. Questo ci è rimasto solo l'ammacolata, non c'è più niente. La madonna deve uscire, i torresi hanno bisogno della madonna. Sono d'accordo con lui, con mio cognato. Deve uscire la madonna e basta. Abbiamo saputo che deve uscire e ci fa molto piacere. Sai che ricorre 160 anni dalla prima uscita? No, questo non me lo ricordo. Questo è una divina, scende e va, mamma mia. Bellissimo, molto bello. Mi fa piacere che si ritornerà alla nostra fine, al Magalato Concezioni. È una cosa importante perché è una cosa che la aspettano tutti quanti, quindi è bello.